... Domani doppia decisione per la TAV, Bruxelles sui finanziamenti, il prefetto di Torino sul corteo di domenica in Valsusa, anche i poliziotti chiedono di vietarlo. Buongiorno a voi tutti che seguite il telegiornale del Piemonte. Dunque l'alta velocità Torino-Lione di stretta attualità domani a Bruxelles la Commissione europea renderà noto l'elenco delle opere ammesse ai finanziamenti dell'Unione fino al 2020 e domani mattina a Torino il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine pubblico deciderà se autorizzare l'annunciata manifestazione NOTAV prevista per domenica con marcia in Valle Susa all'alzare il livello di guardia gli incidenti provocati dai Black Block sabato a Roma. Il servizio. Da parte mia come Presidente della Regione chiedo a tutti, quindi agli abitanti della Val di Susa, ai Valsusini e agli amministratori locali di non farsi strumentalizzare. Un conto è avere le proprie idee, manifestare, un altro conto è farsi strumentalizzare. Quindi chiediamo loro di dare delle garanzie su questo. La decisione spetta al prefetto se autorizzare o no la manifestazione annunciata per domenica prossima in Valle Susa contro la nuova linea ferroviaria Torino-Lione. C'è il timore di un ripetersi del 3 luglio, i gravi incidenti che provocarono oltre 200 feriti e poi tutta l'estate agitata attorno al cantiere dove verrà scavata la galleria di sondaggio a Chiomonte. Le paure si fondano sui disordini di sabato a Roma, la capitale tenuta in scacco dai Black Block, il sindaco alemanno che vieta cortei nelle prossime settimane. Dalla Valsusa si respingono gli accostamenti, si annuncia una grande giornata di popolo. L'ordine è però quello di portarsi le cesoie per abbattere la recinzione del cantiere a Chiomonte, ciò che trasformerebbe la manifestazione in un'aperta violazione, un reato. La procura è già allerta. La parola aspetta al Comitato per la sicurezza. Si riunirà domattina in prefettura. Al prefetto De Pace arrivano le richieste di bloccare la manifestazione, ma tutto si deciderà domani. In ogni caso, anch'io, come ha detto il Presidente Cota, credo che dobbiamo chiedere a tutti coloro che in qualche modo si sentono coinvolti nella vicenda della TAV di operare per escludere in ogni modo coloro che vogliono fare violenze o introdurre su intimidazioni e atti teppistici nella nostra vita di poterlo fare. È necessario che tutti assumano l'impegno di isolare i violenti e di metterli nelle condizioni di non nuocere. Domani è anche il giorno in cui la Commissione di Bruxelles varerà il piano di finanziamento ai progetti prioritari in Europa, le reti transfrontaliere. La Torino-Lione, che ha già passato l'esame dei governi d'Italia e Francia, che si sono accordati sulla ripartizione delle spese, aspetta adesso l'ultimo imprimatur dall'Unione. 2 miliardi e 400 milioni di euro, il 27% della spesa totale della tratta che sta tra le stazioni internazionali di Saint-Jean-de-Maurien e Susa. Restiamo in argomento. Vietare le spese di qualsiasi tipo in Valle Susa per evitare scontri, incidenti e spese per le casse pubbliche. La richiesta arriva dai sindacati di polizia che questa mattina a Torino, davanti al Palazzo della Giunta regionale, hanno manifestato contro la mancanza di risorse economiche e segnalano un disagio. Siamo costretti a effettuare i servizi di ordine pubblico in prossimità del cantiere di Chiomonte, ancora con le divise estive, perché non ci sono i soldi per quelle invernali. Lo dice Eugenio Bravo, che è il segretario regionale del SIULP.